In questo breve tutoriale esamineremo la procedura di gestione della ripresa dello scrutinio per gli alunni per i quali il Consiglio di classe aveva deliberato a giugno la sospensione dello scrutinio. La procedura prevede l'inserimento dei voti deliberati dal Consiglio di classe, l'inserimento dei codici di promozione o di non ammissione alla classe successiva e la stampa del verbale dello scrutinio. La procedura prende avvio da Argo Scuola NEX nella schermata di sinistra nel menu Scrutini. Aprendo il menu Scrutini si attiva l'icona Ripresa dello scrutinio, quindi il docente coordinatore accederà alla classe per la quale è incaricato di gestire la procedura di scrutinio, in questo caso ad esempio la terza B. Comparirà una finestra in cui sono elencati i nomi dei soli alunni che hanno avuto delle insufficienze e quindi sono stati archiviati con la sigla Sospensione dello Giudizio. Una volta esaminate le prove, una volta esaminati i risultati e decisa la promozione o la non promozione, il docente coordinatore modificherà i voti attribuiti cliccando sul nome dell'alunno. In questo caso Matteo Perruso aprirà la schermata con i voti e i giudizi riportati e laddove esiste l'insufficienza potrà essere eventualmente modificata e modificato anche il giudizio che accompagnava a giugno il voto di insufficienza. Bisognerà quindi poi ricalcolare la media, matematica e se si tratta di un alunno del triennio inserire anche il credito. E' molto importante concludere questa semplice procedura attribuendo quindi l'esito finale e modificando la sigla da SO Sospensione del Giudizio a AS se l'alunno viene ammesso, quindi promosso, alla classe successiva oppure NS che sta a indicare appunto non ammesso dopo la sospensione del giudizio, quindi le uniche sigle da utilizzare sono le seguenti o la sigla AS per la promozione ovvero la sigla NS cioè non ammesso dopo la sospensione del giudizio perché queste indicazioni restano archiviate nel curriculum, nel fascicolo elettronico dell'alunno. In questo caso lasciamo per il momento Sospensione del Giudizio, dopodiché i dati vengono salvati facendo clic sull'icona del dischetto. E' possibile procedere dopo aver fatto quest'operazione alla stampa del verbale semplicemente cliccando sull'icona della matita che scrive sul foglio con la lettera S che significa appunto stampa. Si aprirà una schermata che ci consentirà di scegliere il documento da stampare. Attenzione perché noi utilizzeremo il modello numero 9, il penultimo della serie, quello che porta la dicitura in maiuscolo ripresa a scrutinio finale e non il modello numero 2 che pure porta una dicitura analoga. Il modello numero 9, scritto tutto in maiuscolo, consente di avere un verbale in maniera automatica dove vengono riportate appunto le paggere degli alunni che sono stati promossi o eventualmente bocciati. In testa compare l'indicazione degli alunni, l'elenco degli alunni per i quali il Consiglio procede alla deliberazione, come al solito l'elenco dei docenti del Consiglio di classe, il preambolo iniziale e quindi la parte centrale in cui viene riportato il nome o i nomi dei ragazzi per i quali il Consiglio delibera la non ammissione, nel caso non ce ne siano ovviamente questa parte viene cancellata, e il nome dei ragazzi invece per i quali il Consiglio di classe delibera la promozione con relativo voto di promozione, 6, 7, 8, quel che sia, e qui i docenti se vogliono possono nelle note liberamente scrivere le proprie considerazioni, giudizi o quant'altro si ritenga opportuno inserire. Viene poi il verbale a completarsi con la tabella dei criteri di attribuzione del voto di condotta e se si tratta di alunni del triennio anche la tabella che riguarda l'attribuzione del credito formativo. Se non si tratta di alunni del bienio questa parte può essere selezionata e cancellata. Dopodiché si passa alla stampa del verbale o direttamente dalla stampante che ha l'effetto di creare un pdf e quindi la stampa cartacea oppure impostando prima il layout del documento, cliccando su pdf. È utile selezionare qui l'opzione di non riportare l'intestazione per un fatto estetico di stampa ed impostare se si vogliono i margini con un valore più alto, ad esempio 10, anziché quelli che sono riportati dal sistema. Fatto clic su ok si può procedere alla stampa cliccando sulla icona della stampante e avremo quindi il modello di verbale in pdf che può essere tranquillamente stampato cliccando appunto sull'icona poi della stampa finale oppure salvato cliccando sull'icona del dischetto.